Buonasera a tutti, io mi chiamo Paola Alciati, ho scritto il romanzo La pulce che voleva vedere il mondo, è un romanzo metaforico, è un libro che nasce per adulti, però trattandosi di una storia di animali che parlano, sullo stile del gabbiano Jonathan Livingstone, del piccolo principe e della gabbiana il gatto, viene apprezzato anche dai più piccini. Il protagonista è Teo, una piccola pulce che con un nome semplice di sole tre lettere parte appunto umilmente dalla sua tana per vedere il mondo, non per giudicarlo, non per criticarlo, ma semplicemente per esplorarlo. Lo attenderà Gasparo, un bimbo di cinque anni che sa parlare con il suo gatto Leopoldo. La pulce è il più piccolo animaletto che attende questo bimbo e questo bambino lo aspetta perché crede che solo il più piccolo di noi possa dare la risposta alle domande più grandi, come che cos'è il cielo, che è appunto la domanda con cui si apre il romanzo. Ogni capitolo tratta un valore della vita, come la famiglia, la lealtà, il coraggio nelle sfide appunto da affrontare, il credere in noi e quindi ogni personaggio ci illustrerà appunto questo. Attorno a questo libro si è scatenato un universo di creatività, sta nascendo un gioco di società per famiglie, facciamo gite letterarie e quindi portiamo le persone, i bambini, gli anziani su per i monti per ripercorrere appunto il viaggio di la pulce per sentirci tutti i pulci per un giorno e trovare nella natura appunto ciò che possiamo scoprire. Quindi troviamo appunto in vari capitoli vari personaggi, come ad esempio l'aquila che si è rotto un'ala, rappresenta il dolore fisico, lei non sa se potrà ritornare a volare, però riacquisterà la fiducia nei bambini, negli uomini e nei medici che la curano prima di sapere se appunto il suo decorso, la sua guarigione avverrà oppure no. Poi ci sarà ad esempio l'elefante che traghetterà la piccola pulce nell'adolescenza, perché una pulce salta solo pochi metri, invece salendo sulla groppa di un elefante potrà percorrere chilometri, tutto sempre in veste metaforica. Poi altri personaggi importanti saranno ad esempio l'arcobaleno che ci illustra quanto noi siamo belli, perché con semplici sette colori di cui lui è composto e a livello metaforico anche noi possiamo dar vita a tutte le sfumature della nostra esistenza, quindi basta poco per essere creativi e quindi questo è un messaggio anche verso tutti voi, riscoprite i vostri talenti, le vostre passioni, se vi piace disegnare o suonare, insomma, oppure scrivere, insomma, alle volte la vita con i propri ritmi, no? Cioè li fa accantonare un po' di più, no? E quindi uno pensa a lavorare, a studiare, eccetera, e non a esprimere la propria creatività e le proprie passioni. Se riusciremo quindi a dare più spazio a queste nostre passioni e a questi nostri talenti, saremo veramente più protagonisti della nostra vita e lasceremo il nostro sorriso anche alla gente che ci incontrerà. Salve, mi presento, mi chiamo Tonino Scala, ho 37 anni e sono un uomo del Sud, vengo da Castellammare di Stabio, una città bella e difficile in provincia di Napoli. Come dicevo, un uomo del Sud, con pregi e difetti, degli uomini del Sud, ma con la passione che ci contraddistingue. Questa passione mi ha spinto a scrivere Sudditi racconti dal profondo Sud. Provo con la mia passione e la passione di Neve Regionali a rappresentare un universo di invisibili, degli uomini in carne ed ossa, ma che molte volte per il paese Italia sono invisibili, non si vedono. E quando qualcuno li vede, li vede anche un po' con disprezzo. Loro ho provato con uno strumento semplice, quello del racconto a rappresentare un mondo, non un libro di storia, ma un libro di storie, di storie di vita quotidiane. Come una vecchia Polaroid che vuole imprimere alcune immagini, le immagini della realtà della provincia di Napoli. Racconto storie di personaggi che vivono a Napoli, ma che potrebbero vivere in qualsiasi altra parte del mondo, del Sud del mondo. Di giovani disoccupati che provano in un bungalow nella bella Pompei a stare più ore perché non si ha la possibilità di poter pagare una camera per fare l'amore ogni sera. Parlo di storie ordinarie di camorra, di una ragazza che perde il proprio fidanzato perché è diventato uno buono, come si dice dalle nostre parti, ed i genitori nel vedere la figlia piangere non sanno se piangere o essere felici perché non c'è più quel farabutto che forse avrebbe potuto rovinare la vita della figlia. Questo è il Sud, con tante luci e con tante ombre, ma che più volte lo guardiamo con disprezzo e da lontano perché non lo conosciamo. È un mondo che ha la necessità di essere rimesso al centro di questo paese nel quale alcuni parlano di secessione. Purtroppo, lo dico a malincuore, oggi c'è una vera e propria secessione degli animi e per ripartire bisognerebbe provare a fare ciò che disse Massimo D'Azeglio nel 1861. Fatta l'Italia, bisogna fare gli italiani. Proviamoci insieme. Buonasera a tutti, sono Maddalena Capra, se volete potete chiamarmi Maddalena Lebu, che è il mio cognome da coniugata, che è un po' più chic. Io ho scritto una raccolta di poesie, in verità non le ho scritte tutte adesso, si tratta di una serie di poesie, di componimenti scritte nell'arco degli anni. Il titolo è Quasi Giorno. Il motivo del titolo direi che è duplice. Allora, da un lato ho messo insieme questi componimenti, ho deciso di raccoglierli dopo tanti anni di scrittura, in un momento di particolare grazia della mia vita, in cui dopo tante difficoltà, sia sentimentali, sia psicologiche o comunque di incertezze varie, mi è sembrato di trovare finalmente una direzione. In particolare, in questo momento in cui raccoglievo le poesie, mi trovavo incinta del mio secondo figlio, tra l'altro femmina, cosa che desideravo tantissimo. Poi dovevamo cambiare casa, giustamente allargando la famiglia e avevamo appena comprato due appartamenti che io personalmente ho unito, disegnando la nuova pianta, curando gli arredi, la disposizione di tutti i colori, per cui è una cosa di grande creatività per me e anche di grande significato, perché comunque la casa è il nido ed è anche il luogo dove maggiormente scrivo, se vogliamo. Nello stesso tempo stavo curando questa raccolta, per cui è un momento di grande rinascita, quindi è quasi giorno in questo significato di nascita, di venuta alla luce. Il secondo significato, un po' più sottile, nasce dal fatto che, premetto che questo titolo è un po' arrivato, è un po' arrivato casualmente ai miei orecchi da fuori, adesso non sto ripercorrere un po', la situazione è imprecisa, però mi ha scelto, non l'ho scelto io, mi è arrivato e io ho pensato suona bene, ha senso, è lui, veste. Significava in questa seconda accezione quel momento particolare in cui sai che sta arrivando l'alba, ma non è ancora alba, quindi sei un attimo prima, che un po' secondo me racchiude la dinamica, il senso e il sapore del mio scrivere. Il senso principale non è soltanto mettere in carta le emozioni di modo da liberarsene, ma quando vedi che quello che hai scritto ha una forma artistica che tu quantomeno consideri tale, poi vabbè ho scoperto in verità anche i lettori, a quel punto hai fatto secondo me un piccolo miracolo, cioè da qualcosa magari di potenzialmente distruttivo che ti può imbruttire come può essere magari il dolore, la solitudine, l'isolamento, un momento di incertezza, hai tirato fuori una cosa creativa, vitale. Questo per me è un concetto molto forte, se tu da una materia grezza come il dolore, prendiamo per esempio, riesci comunque a creare, a fare una scultura che è creativa, quindi a tirare fuori una forma artistica, la creatività ha già vinto, quindi la vita ha già vinto. Allora la poesia per me è proprio il tramite che mi aiuta a sublimare l'emozione, quindi appunto a renderla creativa, mi aiuta proprio, mi accompagna in quel quasi. Banalizzando all'estremo, non mi piacerebbe ma lo faccio per chiarezza, è sempre quasi giorno, non c'è più veramente una notte che tenga a questo punto. Qualcuno mi ha fatto notare giustamente che comunque nel momento in cui pubblichi poi una raccolta di poesie, dal tuo raccoglimento interiore, in verità ti apri. Questa secondo me è una bella cosa perché ho scoperto effettivamente che quelle parole potevano aiutare altri a ritrovarsi e allora se quelle stesse parole che per me hanno avuto tanto senso riescono a penetrare altri animi, vite tanto diverse, a passare come un filo sottile attraverso vite, animi, caratteri, personalità così diverse, secondo me questo crea unità, apre, supera la solitudine e dà un senso ancora molto più amplificato a quello che all'inizio è nato come un componimento molto personale. Buonasera, io sono Vincent, sono qui per presentare il mio libro Ritorno all'esistenza autentica, partiamo da una precisazione che il personaggio del libro si chiama Vincent ma non sono io, quindi non è una biografia perché in questo periodo molte persone mi hanno detto ma tu hai scritto una biografia? No, non è la mia biografia, però racconta di una vita, di una persona immaginaria che fa un determinato percorso in seguito a quello che io chiamo l'impatto esistenziale, l'impatto esistenziale è quella presa di coscienza immediata, proprio quello sbattere al muro che noi abbiamo quando ci nasce una persona cara o ci viene a mancare una persona cara, in questo caso c'è la morte di una persona cara ma è un ritrovamento di se stesso, il titolo stesso Ritorno all'esistenza autentica sta proprio a indicare quello che noi autenticamente siamo, ognuno di noi, ogni singola persona di qualsiasi continente, qualsiasi religione è una novità assoluta per questo mondo, è vero che tutti noi esseri umani siamo sotto un'unica specie, ma ognuno di noi essendo una novità assoluta può portare con sé una novità assoluta, nasciamo con questa autenticità, poi man mano ci allontaniamo, certo non per forza per nostra volontà perché purtroppo viviamo in un mondo dove l'immaginazione oramai ha preso il predominio, mi viene subito in mente nel 1938 quando uno dei massimi pensatori del secolo che è Martin Heidegger, uno dei più grandi filosofi di tutta la storia, scrisse un piccolo saggio dal titolo L'epoca dell'immagine del mondo, in cui lui già 70 anni fa in qualche modo parlava di questo mondo che si era dissolto nell'immagine, la persona oramai è diventata la pubblicità, quei cartelloni che noi vediamo continuamente in mezzo alle nostre strade, che cosa ci indicano? Ci creano una sorta di prototipo, ma noi ci riconosciamo in quelli, guardiamo la TV, vediamo tante bei visi, tante belle facce, concorsi di bellezza, programmi, reality, ma quelli siamo noi, ci proiettiamo in quella dimensione, ma dimentichiamo di curare la cosa più importante, che siamo noi stessi. Diversi argomenti sono trattati in questo libro, la filosofia è un sottofondo, ma non è un libro di filosofia, quindi è scritto in modo che possa essere accessibile a tutti, piccoli e grandi, appunto per capire come nella vita di una persona tutto può cambiare in un attimo, il racconto si evolve in 24 ore, quindi una giornata, dalle 3 della notte fino alla notte successiva, sviscerando in questi vari capitoli quali sono i temi più importanti della vita, la morte, l'anima, la religione, non solo la nostra religione, la nostra religione cattolica in Italia, ma anche gli altri tipi di religione, non perché sia il mio, ma il libro lo consiglio di leggere, uno perché è breve, due perché comunque penso che sia piuttosto appassionante, scritto in modo semplice e poi perché già leggendo la frase di introduzione che apre il libro, penso che sia una frase che tutti quanti nella nostra vita in qualche modo abbiamo vissuto, la frase è, nello sconforto alzate gli occhi al cielo, è muto sì, ma saprà consolare. Ciao a tutti!